buonasera a tutti ben trovati alla prima lezione del percorso formativo power language questa sera la lezione aperta al pubblico quindi ci sono gli iscritti quelli che proseguono dal percorso diventare quant ci sono i nuovi iscritti del percorso power language e poi c'è ci sono i nostri lettori ci sono c'è il nostro pubblico quindi approfittate di questa occasione per farci domande non riusciremo molto probabilmente a rispondere a tutte le domande vi è stato chiesto anche di lasciare una domanda in fase di iscrizione le abbiamo vagliate tutte risponderemo quasi a tutte quelle a cui non risponderemo tranquilli perché vi manderemo domani una risposta personalizzata a chi ha fatto la domanda quindi non preoccupatevi se nel proseguito il webinar non dovesse essere trattata la tematica che avete richiesto quindi adesso facciamo diciamo la scorsa di tutte le slide andremo su certi punti un po' veloci perché sono i punti che vi abbiamo inviato già nei video di preparazione al webinar di questa sera quindi alcuni punti li facciamo un po' più velocemente per poi andare ad affrontare tutte le domande anche in fondo al webinar tutte le domande che avete fatto in fase di iscrizione ed eventualmente se rimanesse un po' di tempo rispondere a quelle in diretta quindi scrivete anche domande durante il webinar se vi vengono perché nel caso appunto se riusciamo rispondiamo in diretta oppure vi mandiamo poi domani una mail di risposta personalizzata perché vengono registrate proprio da chi viene registrato l'utente che fa la domanda bene partiamo è possibile programmare i propri trading system senza essere dei programmatori professionisti è una domanda difficile nel senso che creare dei trading system che sono di fatto un insieme di regole predefinite sono delle strategie operative codificate poi in un linguaggio di programmazione ovviamente qui abbiamo scritto che sono finalizzate da una strategia di trading ma di fatto è il trading system è una strategia operativa ricodificata in un linguaggio di programmazione e il fatto è che avere la strategia operativa non è difficile è difficile trovarne una che funzioni bene che sia stabile robusta e questa è una parentesi però trovare la strategia da codificare nel linguaggio è semplice il problema è che chi si avvicina a questo mondo al mondo dei trading system al mondo del trading sistematico come primo scoglio si pone quello della tecnologia informatica quindi come farò ad automatizzare i sistemi sistemi poi sono delle macchine chiamano macchinette piuttosto che dei software che vanno ad automatizzare i miei investimenti e quindi potrebbero eventualmente fare dei danni perché aprire e chiudere posizioni a casaccio c'è un problema audio qualcuno scrive che c'è un problema audio mi sentite correttamente chiedo perché ok qualcuno ok quindi allora è un problema di connessione quindi io proseguo nel caso comunque la registrazione viene pulita quindi se qualcuno di voi avesse problemi di connessione tranquilli perché l'audio che viene registrato è quello del computer nostro diciamo e quindi non ci sono problemi se poi quando riguardate la registrazione sentite tutto pulito quindi dicevamo il problema che si pone che si avvicina giusto problema che si pone che si avvicina al mondo del trading sistematico è come farò a gestire l'infrastruttura e la comp si pone diciamo quello che è il problema della complessità informatica nello specifico riguardo proprio al webinar di oggi il problema è quello di come farò a scrivere il mio codice di programmazione come farò a scrivere il codice del mio trading system allora ci sono diversi modi per risolvere i problemi mettiamo sempre questa slide sia questa che questa nei nostri webinar per innanzitutto mettere il punto fermo sull'argomento sulla tematica trading system e per dirvi che in realtà ci sono tanti modi diversi per risolvere lo stesso problema e nel caso specifico della programmazione è sacrosanto diciamo perché lo stesso problema informatico ha non dico infinite però molteplici soluzioni e molteplici pardon metodologie per arrivare alla stessa identica soluzione nel caso del cubo di ruby che voglio avere tutte le facce del cubo dello stesso colore questo è il mio problema ed è quello che aspiro ad avere nel caso di un codice di un trading system voglio avere un trading system al di là del fatto che debba essere profittevole funzionare essere robusto stabile essere attendibile il report che leggo e avanti avanti voglio che il mio trading system compri o venda uno strumento un sottostante con un determinato time frame nel momento preciso in cui si verificano determinate condizioni queste condizioni dovranno essere chiare limpide pulite e codificabili in un linguaggio di programmazione questo per dirvi che se volessi scrivere un sistema di trading che dovessi acquistare alla rottura del massimo di cinque giorni prima ho diversi modi per farlo andiamo avanti quindi che cosa sarete in grado di fare dopo questo webinar vediamo oggi perché è importante saper leggere un codice che poi ci aiuta a rispondere alla domanda tutte queste diciamo quattro punti ci aiutano a rispondere alla domanda con cui abbiamo iniziato è possibile programmare i propri trading system senza essere dei programmatori professionisti bene cerchiamo di rispondere a questa domanda vagliando questi quattro punti quindi perché è importante saper leggere un codice i tipi di studio gestiti dalla piattaforma di trading che nel nostro caso è multicharts differenti tipologie di dati gestite dalla piattaforma e come si legge la struttura di un codice su alcuni di questi punti come vi dicevo in apertura abbiamo già visto alcuni passaggi dei video che preparavano che abbiamo inviato e che predisponevano che vi hanno predisposti a seguire poi il webinar di questa sera quindi andremo un pochino più veloci nel caso comunque scrivete e chiedete se non fossero chiari alcuni passaggi quindi l'obiettivo ovviamente è quello di rendervi dei trader sistematici più consapevoli più consapevoli dei problemi che potete risolvere potendo maneggiare un codice senza essere dei programmatori professionisti non stiamo cercando di vendervi il sogno che potete diventare dei programmatori professionisti così tutto d'un botto il discorso è molto più semplice è possibile imparare a creare un trading system senza essere un programmatore professionista quindi la domanda pone il focus su se sono in grado di scrivere un trading system non se sono in grado di scrivere un programma o ricreare un sistema operativo avere il controllo sul significato degli input avrete il controllo sul significato degli input dopo questo webinar e inizierete un percorso avrete le idee chiare sul come iniziare un percorso di studio nel linguaggio sia esso con algoritmica piuttosto che da autodidatti algoritmica è un hub di professionisti io sono Andrea Angiolini mi occupo del corso di programmazione nello specifico sono un programmatore la mia formazione è informatica quindi dopo vi spiegherò qual è il mio punto di vista da informatico rispetto a quelli che sono i punti critici della faccenda ovvero quando io non sono un programmatore come posso approcciarmi al linguaggio di una piattaforma di trading algoritmica è un hub di professionisti e si occupa di mettere in collegamento e di cercare di avere più collegamenti possibili tra i vari professionisti del settore nel mondo del trading system quindi col tempo questa rete di collegamenti si è ampliata e abbiamo creato una bella rete di collaboratori di scenti che ci ha portato a resistere in questo duro settore quindi la nostra mission è creare trader sistematici automatici completamente autonomi nella gestione dell'infrastruttura informatica ed è possibile è possibile con gli strumenti giusti che cosa vuol dire? vuol dire che noi abbiamo suddiviso il processo di automatizzazione non so chi di voi abbia già letto questo libro che abbiamo pubblicato a settembre del 2018 è un libricino che si legge velocemente sono 90 pagine e indica quelli che sono tutti gli step da affrontare per arrivare ad automatizzare un trading system suddividendolo in sette qui li abbiamo chiamati anelli ma di fatto in sette step in sette fasi partendo dall'idea e arrivando poi alla programmazione backtest ottimizzazione validazione costruzione del portafoglio e l'automatizzazione stessa nel caso di questa sera noi ci concentriamo ci focalizziamo sulla parte di programmazione sulla programmazione l'abbiamo scritto non a caso da trader perché il linguaggio della piattaforma che andremo a vedere questa sera è un linguaggio pensato più per i trader che per i programmatori i programmatori si offendono quando vedono il linguaggio power language che è il linguaggio di cui parliamo questa sera quindi lo ripeto impareremo perché è importante saper leggere un codice i tipi di studio le differenti tipologie di dati e leggere la struttura di un codice quindi innanzitutto perché è importante saper leggere un codice io partirei ancora prima perché multicharts perché è importante saper leggere un codice è in dubbio nel senso che se io so leggere un codice e se sono in grado anche di crearlo sono autonomo nella parte di ho un'idea nel passaggio che c'è tra l'idea e il backtest perché io ho l'idea del sistema della strategia che vorrei scrivere e vorrei poterla backtestare per poi farci sopra un'ottimizzazione la validazione inserirla in un portafoglio eventualmente automatizzarla ma tra l'idea e il backtest ho bisogno di programmare quindi è in dubbio perché sia importante saper leggere il codice e saperlo anche scrivere perché mi rende autonomo in questo passaggio se non sono in grado di sviluppare il codice sono costretto a passare da una seconda persona che dovrà quindi un programmatore professionista a cui delegherò lo sviluppo oppure mi dovrò trovare un socio un altro trader in grado di sviluppare con cui condividere strategie ed eventualmente farle sviluppare a lui e perché però multi charts allora col senno di poi da programmatore e anche dall'esperienza che abbiamo avuto come algoritmica quindi cioè sia il mio punto di vista in quello che vi sto per dire come Andrea Angiolini programmatore o informatico forse è meglio e il punto di vista di algoritmica cioè l'insieme di tutti i professionisti che la compongono è stata una scelta molto azzeccata perché ci ha tenuto lontano da quello che noi chiamiamo in informatica il fenomeno del lock-in ovvero quando inizio ad utilizzare un software c'è sempre un periodo di apprendimento e quel periodo di apprendimento richiede un determinato periodo scusate i giochi di parole ma non è immediato non è che io decido oggi di utilizzare un nuovo software e domani sono già esperto poi ognuno ha la sua grado diciamo di velocità però cos'è il fenomeno del lock-in il lock-in è un fenomeno che si verifica nel momento in cui noi apprendiamo l'utilizzo di un software e siamo bloccati nel cambiare software dal fatto che quello che stiamo utilizzando in questo momento lo conosciamo e quello che dobbiamo utilizzare di nuovo per noi è complicato quindi rimaniamo incastrati in questo fenomeno per fare un esempio pratico esce una nuova piattaforma di trading bellissima che sembra diciamo fare il nostro caso benissimo però è nuova devo passare a quella piattaforma devo imparare quella piattaforma devo e qui va preciso nell'argomento di questa sera devo riprogrammare devo riscrivere tutti i miei codici in quella nuova piattaforma e allora perché multicharts perché multicharts è una piattaforma multibrokers e multidata feed nel senso che distingue sia i fornitori dati sia i broker i broker essi stessi sono a volte anche fornitori dati quindi sono due figure che multicharts distingue anche il lato tecnico al suo interno e questo ci tiene più slegati dal fenomeno del lock-in ci rimaniamo comunque incagliati perché quello riguarda i software in generale nel momento in cui iniziamo ad utilizzare un software le proveremo tutte le cercheremo tutte per poter continuare ad utilizzarlo ok il fatto è che se quel software è il software di un broker quel broker fallisse spero di no però quel broker non ci piacesse più non fosse più conveniente saremmo costretti a cambiare piattaforma per cambiare broker se quel fornitore dati allo stesso modo non ci piacesse più non fosse più conveniente piuttosto che ce ne fosse uno nuovo più efficiente saremmo costretti a cambiare piattaforma ora non che multicharts abbia collegamenti infiniti però non è innanzitutto la piattaforma di un broker ma è un software un software di analisi tecnica che vi permette di programmando delle strategie degli indicatori di backtestarle e automatizzarle e vi permette di fare tutto quello che è il processo almeno tutto quello che per algoritmica è il processo di automatizzazione di un trading system partendo da quella che è l'idea programmandola backtestandola ottimizzandola validandola creandoci sopra il portafoglio e automatizzandola quindi multicharts come dicevo col senno di poi avendo fatto questa scelta ormai nel 2010 io avevo iniziato con trade station nel 2006 poi passai a multicharts nel 2010 ormai sono passati nove anni e vi posso dire che col senno di poi adesso in quel caso avevo fatto un cambio da poco nel senso che sono due piattaforme molto simili ma col tempo ne ho viste altre ho visto altre piattaforme di trading e ripeto col senno di poi non saremmo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso tutto quello in realtà significa non saremmo riusciti a sviluppare tutti quei sistemi non avremmo potuto fare tutti quei backtest saremmo più indietro nella nostra fase di apprendimento perché vi porto il caso ad esempio di due soggetti uno con cui siamo venuti a contatto e l'altro che conosciamo diciamo dalle cronache Jonathan Kingley è un gestore di fondi che pubblica spesso degli articoli se andate a cercare su google andate a cercare e spesso mostra dei report in trade station vi faccio notare che nella stragrande maggioranza dei casi i fondi se non sono molto piccoli hanno delle normative interne che gli impediscono in genere di utilizzare piattaforme come ad esempio multicharts o trade station e perché Kinley secondo voi dovrebbe pubblicare poi i risultati dei suoi test di quello che fa durante la giornata per cercare nuove metodologie di investimento nuove strategie perché li dovrebbe pubblicare in trade station molto semplice perché sviluppare strategie di trading in trade station e in multicharts che hanno lo stesso linguaggio alla base che è easy language e power language dopo vi spiego la differenza tra i due è molto più semplice è molto più veloce quindi io date 100 idee da sviluppare in trading system ci impiegherò un determinato tempo per farle in multicharts in trade station impiegherò molto più tempo in qualsiasi altra piattaforma di trading esistente al mondo che possa darmi chiarisco qualsiasi altra piattaforma di trading al mondo così potente come multicharts e trade station che mi permettano mi permetta se è la piattaforma di coprire tutto tutti gli anelli della catena perché esistono delle piattaforme che hanno linguaggi semplici come multicharts ma non vi permettono poi di fare la validazione non vi permettono eventualmente di automatizzarlo o piuttosto che hanno sono legate ad un singolo broker hanno delle limitazioni che poi vi bloccano e vi fanno rientrare in quel fenomeno che abbiamo definito lock-in segreto quons invece è un'azienda una realtà che sviluppa trading system sempre in america con cui abbiamo collaborato e che utilizza ad esempio questo è il caso proprio reale il nostro replicator non è l'oggetto di questa sera ma vi faccio arrivare dritti al punto sapete che cos'è il replicator replicator è un codicino che abbiamo fatto noi di algoritmica per replicare da qui il nome spostare diciamo copiare le operazioni che fa multicharts dentro metatrader quindi loro avevano la necessità di fare trading per questioni dei broker evidentemente il loro broker e i broker dei loro clienti aveva metatrader avevano la necessità di farlo con metatrader però si erano resi conto guarda caso che sviluppare un trading system in metatrader è molto più complesso e richiede molto più tempo rispetto a multicharts quindi che cosa hanno fatto hanno iniziato ad utilizzare questo software che copia le operazioni ma cosa hanno fatto ed è qui la questione su cui vi voglio portare sottolineare e soffermare hanno continuato nel corso degli anni ad utilizzare multicharts per sviluppare validare backtestare ottimizzare le strategie poi i segnali li girano nella metatrader per questioni di broker ma con cosa sviluppano con multicharts ok facciamo un esempio perché power language power language è il linguaggio di multicharts easy language è il linguaggio di tradestation sono molto molto simili dopo vi spiego la differenza ma per il momento considerateli come lo stesso linguaggio prendiamo le principali piattaforme di trading o abbiamo citato anche un linguaggio che adesso è molto diffuso e che tra i trader sistematici quali python queste sono le piattaforme più diffuse di trading metatrader metatrader ottima piattaforma per l'execution piuttosto che appunto perché come vi dicevo prima è collegata a multibroker motivo per cui la utilizzano il problema è che il codice è difficile non vi direi mai facciamo un corso sul codice di metatrader perché raccoglierebbe due o tre iscritti forse e sarebbe molto complicato da fare perché sarebbe un corso per programmatori non un corso per trader pro real time è facile il linguaggio di pro real time peccato che la piattaforma abbia un sacco di limiti rispetto a quello che vi permette di fare multicharts e non solo in che linguaggio ha dei limiti multicharts ha un linguaggio molto semplice ma che con determinati addon con determinate aggiunte ai al linguaggio vi sblocca quei limiti che inizialmente erano parte anche del linguaggio di multicharts ninja trader ottima piattaforma backtest automatizzazione bellissima ottima tra l'altro adesso sono anche broker un bel voto diciamo a ninja trader codice difficile quindi quanti trading system si possono sviluppare rispetto alle stesse idee di trading tra ninja trader e multicharts nell'arco dello stesso tempo quindi io dico oggi inizio a sviluppare le mie idee di trading ce le ho già ci rivediamo qui fra dieci giorni quale tra le due piattaforme avrà quale tra le due piattaforme sarò stato in grado di sviluppare più codici su multicharts perché perché multicharts insieme a trade station sono quelli più facili python uguale ha tantissime librerie legate al mondo dell'argotrading peccato che sia difficile quindi non è alla portata di tutti esatto mi fate notare che c'è scritto python con la ph lo correggeremo grazie guardate un esempio pratico abbiamo sviluppato e vi garantisco che non l'abbiamo pompato per farvelo vedere vi faccio notare io che ci sono delle righe in cui per questioni di indentazione del codice effettivamente ci sono dei blocchi che sembrano quasi inutili che si potrebbero riassumere in una riga sola ma anche nel codice easy language ci abbiamo inserito delle righe vuote vi garantisco che anche sopra ce ne sono questi sono gli stessi questo è lo stesso trading system sviluppato in multicharts e in metatrader lo ripeto anzi no lo ripeto ve lo dico sicuramente l'avrei potuto l'ho scritto io personalmente l'avrei potuto scrivere meglio in metatrader ho meno esperienza in metatrader quindi avrei potuto risparmiare forse un centinaia di righe se fossi stato più efficiente nello sviluppo ma di quante righe stiamo parlando c'è lo stesso trading system sviluppato in power language meno di 30 righe sviluppato in mql meta quotes language 4 più di 300 righe quindi quanto tempo impiegherò tra i due qualche è quello che mi chiede chiede meno tempo per fare lo stesse identiche operazioni stesse identiche regole andiamo un po' più nel cuore diciamo della piattaforma allora multicharts è una piattaforma abbiamo detto multibroker e multidata feed è una suite di programmi che composta da multicharts che è il cuore della piattaforma diciamo dove ci sono i grafici che vi permette di fare il backtest l'ottimizzazione l'automatizzazione però all'interno di multicharts noi vediamo quello che abbiamo definito all'interno del quote manager in termini di strumenti finanziari quindi nel quote manager andremo a definire gli strumenti finanziari ed è il nostro database degli strumenti finanziari dentro a multicharts una volta una volta caricati gli strumenti finanziari definiti all'interno del quote manager potremmo caricare indicatori e trading system ovvero i nostri segnali segnali e indicatori che dovranno essere stati scritti e programmati all'interno del power language editor il 3D optimization charts è un software che si collega a multicharts per rappresentarci la distribuzione dei parametri ottimizzati dopo ne vediamo due screenshot giusto per farvi capire ma è meno importante in questa descrizione che vi sto facendo e il portfolio trader è l'evoluzione di multicharts non l'evoluzione per dire che è meglio fa quello che fa multicharts però in termini di portafoglio quindi multicharts mi carica un grafico alla volta e è preferibile utilizzarlo lo dicevo ieri con chi segue il corso il percorso formativo diventare quant è sempre preferibile utilizzare multicharts perché si ha più controllo però se ho bisogno di automatizzare un trading system sul nasdaq 100 facevo ieri questo esempio è ovvio che non posso aprire 100 grafici e poi cliccare 100 volte in automatizzazione lo posso fare forse su un nasdaq 100 ma se poi iniziamo a parlare dell'sp500 e se poi parliamo di due portafogli sul nasdaq 100 le cose si complicano ecco per questo hanno sviluppato quelli di multicharts il portfolio trader che vi permette sia di fare il backtest di portafoglio di una strategia piuttosto che l'automatizzazione di quella strategia a livello di portafoglio quindi multicharts è piattaforma multibroker multidata feed composta da una suite di programmi quello su cui ci concentriamo questa sera è il nostro amico power language editor perché all'interno del power language editor troviamo il codice di programmazione dei nostri sistemi quando apriamo il power language editor multicharts vi permette di gestire tre strumenti tre oggetti nel power language editor potete creare gestire cancellare migliorare quelli che si chiamano funzioni quelli che si chiamano indicatori e quelli che si chiamano segnali per quanto riguarda la definizione di segnali indicatori immagino che sia abbastanza intuitiva le funzioni sono delle parti di codice richiamabili all'interno dei indicatori e dei segnali sono quelle parti di codice che non è necessario riscrivere uguali tutte le volte l'esempio più semplice che faccio di solito è quello di come si calcola la media di un prezzo la media di un prezzo è la somma per calcolare la media ho bisogno di sapere quanto deve essere lunga quella media dato questo valore farò la somma dei prezzi e qual è devo definire ovviamente anche il prezzo quindi eventualmente un prezzo di chiusura farò la somma di tutti questi prezzi e dividerò per la lunghezza il numero dei valori che ho utilizzato nella somma fine banale però il concetto è tutte le volte che ho bisogno di fare una media non vado a riscrivere qual è la formula della media e attraverso le funzioni in questo caso è una funzione matematica ma ci sono anche altri tipi di funzioni posso richiamare codice che è uguale per tutti cioè come si calcola la media è uguale per l'indicatore A l'indicatore B l'indicatore C come è uguale per il segnale A il segnale B e il segnale C quindi le funzioni diciamo i principali oggetti sono indicatori e segnali le funzioni sono strumenti di supporto agli indicatori e ai segnali all'interno del linguaggio avrò dei costrutti tipo gli costrutti tipo sono gli input e le variabili ecco qui vado leggermente più veloce ditemi se non mi state dietro perché li abbiamo visti nei video che preparavano e predisponevano al webinar di questa sera i costrutti tipo quindi sono input e variabili gli input sono quei valori che posso poi andare a fare ad utilizzare in ottimizzazione quindi ora vediamo come funzionano però nei linguaggi di programmazione quelli semplici quelli scusate non quelli semplici quelli standard gli input sono paragonabili a quelli che vengono definite costanti cioè sono quei valori che non cambiano mai durante l'esecuzione del codice dopo vediamo meglio le variabili seguendo questo ragionamento sono invece quei valori che possono mutare nel tempo sia le variabili che gli input possono essere numeriche come vedete qua possono essere delle stringhe piuttosto che dei valori booleani tranquilli non è una parolaccia ma semplicemente i valori booleani identificano la condizione di vero o falso dopo vediamo meglio cosa significa ci siamo no? input e variabili le variabili e gli input possono essere numeri stringhe o valori booleani nella maggior parte dei casi utilizziamo i numeri però ci sono altri casi in cui abbiamo la necessità di utilizzare le stringhe ad esempio se dobbiamo scrivere il nome di un segnale operativo il nome di un segnale operativo adesso qui vado un attimo sul server del percorso formativo diventare quant quando abbiamo un trading system che è a mercato vedete che adesso qui non ha un nome specifico andiamo a vedere se troviamo un sistema ecco questo sistema ha dei vedete che ha un nome l'ingresso questo ovviamente è il nostro chart la nostra chart window caricata con un time frame a 30 minuti dell'eurcad su cui stiamo automatizzando un sistema vedete che ha un nome l'ingresso gli ingressi hanno dei nomi c'è scritto bband se bband le ecco questi nomi vengono definiti all'interno del codice attraverso le stringhe quindi anche le stringhe non è una parolaccia ma sono semplicemente i testi e si possono utilizzare per vari motivi vedete infatti dentro al codice poi ritroviamo bband le nel codice della parte long i valori booleani non sono indispensabili nella pratica nel senso che non dobbiamo per forza utilizzare tranquilli adesso pian pianino mettete insieme tutti i tasselli del puzzle non sono indispensabili nella pratica perché io difficilmente dichiaro dei valori booleani all'interno di un codice però il concetto del valore booleano è indispensabile per capire come poi lavora multicharts il valore booleano è riassumibile nella condizione per fare un esempio l'ingresso di un sistema se io voglio scrivere che devo entrare long se oggi il prezzo di chiusura è maggiore del prezzo di chiusura di ieri adesso vi ingrandisco il ok in power language si scrive if close di oggi è maggiore del close di ieri assumendo che i dati siano giornalieri per chi di voi conosce già meglio il linguaggio ma adesso senza perdervi then buy next bar at mark cioè comprami in apertura domani ok l'insieme di queste due regole cioè l'insieme di questi valori quello che ho evidenziato è un valore booleano di fatto perché identifica una condizione che può essere vera o falsa perché io andrò a acquistare solo se il prezzo di chiusura di oggi è maggiore del prezzo di chiusura di ieri quindi qui multicharts quando legge il codice fa un controllo e dice è il prezzo di chiusura di oggi maggiore del prezzo di chiusura di ieri vero o falso se è vero si può entrare all'interno di quello che si chiama il ramo dell'if che poi vediamo nella prossima lezione e quindi poi si compra se è falso si va avanti si va alla riga successiva o se è finito il codice come in questo caso si passa alla barra successiva e si aspetta che si generi che venga generata la barra successiva quindi il concetto del che cos'è un valore booleano è importantissimo poi che si utilizzi nella pratica in questo caso avrei dovuto per utilizzarlo nella pratica dichiarare la variabile in questo caso la chiamo condizione c'è già una cosa quasi avanzata ma in realtà tranquilli non è niente di creare una variabile la chiamo condizione quindi determino una nuova variabile la inizializzo come falsa e ad ogni barra gli vado a dire che condizione è uguale al prezzo di chiusura maggiore del prezzo di chiusura di ieri e qui vado a sostituire questo è per farvi vedere l'esempio di prima riproposto con una variabile booleana la dichiaro la assegno e la utilizzo e la richiamo quindi la dichiaro falsa di per sé di partenza poi ad ogni barra ogni volta che si che cambiamo la barra di multicharts andiamo avanti viene controllato se il prezzo di chiusura di oggi è maggiore del prezzo di chiusura di ieri quindi questo valore io faccio sempre questo esempio nel corso di programmazione condizione è come una scatola che dobbiamo aprire che dentro contiene un valore vi ricordate prima che abbiamo detto i tipi di dato contiene un valore o numerico o un testo quindi una stringa oppure un valore booleano nel caso specifico attuale se fosse un valore booleano ci sarebbe scritto vero o falso e quindi ogni volta io vado a inserire nella scatola un foglietto che ho scritto true o false vero o falso poi ci sono le parole chiave o keywords sono colorate di blu nell'editor del linguaggio e fanno riferimento ad un preciso valore ad una precisa funzionalità le parole chiave sono importantissime nel power language sono il vantaggio di power language rispetto ad altri linguaggi di programmazione perché vi risolvono da sole alcuni problemi cioè se voi se volete sapere adesso se il vostro trading system è long o short avete una parola chiave che si chiama market position che risolve il problema perché market position infatti è blu se viene utilizzata restituisce un valore zero se non abbiamo posizioni a mercato non siamo né long né short siamo flat meno uno se siamo short e uno se siamo long quindi se volessi fare qualcosa solo nel momento in cui fossi long dovrei scrivere se market position è uguale a uno quindi se sono long allora fai questo 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 e quell'altro e tutto quello che è incluso qua verrebbe eseguito solo nel momento in cui ci fosse la freccina blu del long quindi in questo caso in queste parti del grafico quello che stavamo vedendo verrebbe eseguito qui dentro verrebbe eseguito qua adesso qui non si vede l'inizio della freccina blu ma qua che c'è la freccina rossa e quindi inizia uno short non verrebbe fatto niente qui niente non verrebbe eseguita quella parte di codice perché multicharts si accorgerebbe che siamo short parte parte importantissima che vi aiuta a capire quanto è semplice il power language quindi riassumiamo velocissimamente potete creare indicatori segnali o funzioni dentro gli indicatori segnali quindi nel codice avete diversi tipi di costrutti input che sono quelli che non cambiano mai dopo vediamo meglio cosa sono le variabili che sono quelle che cambiano nel tempo ne abbiamo fatto un esempio poco fa con la variabile condizione il valore che possono assumere input e variabili sono numeri string o valori booleani poi ci sono le parole chiave che vanno ad arricchire il vocabolario del linguaggio è come una lingua straniera di dover imparare l'inglese imparare a scrivere in power language con determinate parole che risolvono determinati problemi fatta questa premessa sappiate che il codice è diviso in aree aree ben o male organizzate a seconda di chi è il programmatore nel senso che facendovi l'esempio di prima io non sono stato bravo qui perché ho diviso male la gestione del codice cioè sono andato ad esempio a inizializzare a questa riga a creare una nuova variabile quando in genere le variabili è meglio crearle tutte all'inizio per mantenere l'ordine nel codice poi questo funziona lo stesso perché power language vi permette di fare molti quelli che molti di quelli che in linguaggi di programmazione più avanzati si chiamerebbero errori perché non ve lo potrebbe far fare qua però in questo caso si può finché non utilizzo una variabile posso anche scriverla più in basso però in genere il codice quindi impariamo come si lavora correttamente il codice è diviso in aree è diviso in aree in genere in tre aree l'area in cui si dichiarano appunto gli input e le variabili che abbiamo visto prima l'area in cui si dichiarano le condizioni della strategia e l'area in cui si gestiscono gli ordini di ingresso e gli ordini di uscita quindi se il programmatore è stato bravo a scrivere il codice dovremmo ritrovare queste tre aree molto facilmente all'interno di un codice poi premesso che più è lungo il codice più è complicato ma si parte sempre con i codici corti altrimenti non ci si capisce un tubo ad esempio qua è molto evidente quali siano le tre aree perché c'è l'area di dichiarazione degli input l'area delle condizioni e l'area degli ordini a mercato perché qui c'è buy sell short sell buy to cover queste quattro parole ormai che le ho citate sono l'ingresso long l'ingresso short la chiusura del long e la chiusura dello short multi charts distingue questi quattro eventi nel mondo reale nei mercati ci sono solo i buy e i sell o compro o vendo poi che venda lo scoperto non importa o compro o vendo o buy o sell dentro multi charts si può distinguere la situazione in quattro eventi diversi l'ingresso long l'ingresso short la vendita long e la vendita short questo per dirvi che se io scrivessi un codice che ad un certo punto verificasse la condizione di chiusura del long non è che verrebbe inviato l'ordine sell se non fossi long perché sell chiude una posizione long già aperta quindi se c'è una posizione long aperta si verifica la condizione 3 ok allora si chiude la posizione se è verificata la condizione numero 3 ma non sono long questo non viene eseguito perché non sono long quindi non c'è nessuna posizione long da chiudere questo giusto per dirvi iniziare a introdurre su come lavora il motore delle strategie di backtest e di automatizzazione di multi charts quindi l'area degli input l'area della dichiarazione degli input l'area delle condizioni e l'area degli ordini quindi ho usato questa rappresentazione della statua perché gli input sono costanti sono fermi non si muovono mai per tutta la durata tutta l'esecuzione del codice io avrò sempre quei valori quei valori tra l'altro sono modificabili dall'utente prima di lanciare il test quindi prima di sapere quale sarebbe stato il risultato di quel trading system con quei valori l'utente può andare a modificarli ovviamente prima perché dopo rimangono uguali non li cambia più nessuno sono fermi sono delle statue quindi giusto per farvi capire come lavora multicharts multicharts parte ovviamente dalla barra come è il motore della piattaforma di multicharts parte dalla barra numero 1 ed esegue il codice ad ogni barra quindi ad ogni barra viene riletto il codice quindi questo codice viene riletto dalla riga numero 1 alla riga numero in questo caso 24 quello che è o ad ogni barra ciclicamente così ogni volta rilegge 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 ad ogni barra quindi questo funziona sia che il sistema sia in backtest sia che il sistema sia in reale e l'input è una costante quindi cosa vedo io qui nella mascherina degli input gli input in questo momento questa strategia utilizza una lunghezza per calcolare in questo caso le bande di bollinger a 20 periodi quindi i segnali che vengono generati all'interno di questa strategia sono segnali generati dall'input impostato a 20 l'input impostato a 20 è impostato a 20 qua all'inizio del grafico come è impostato a 20 qua alla fine del grafico quindi i risultati di questa strategia sono determinati da un input che è dall'inizio alla fine pari a 20 per questo che si chiamano costanti anche e quindi vengono impiegati dall'inizio alla fine nella serie storica senza mai mutare invece le variabili cambiano non è che si autoadattano ma siamo noi a dirgli quando cambiare in questo caso se non c'è una condizione che determina la modifica della variabile vengono cambiate a tutte le barre come avevamo scritto nel codice di prima qua tutte le barre visto che non c'è un filtro su questo assegnamento si chiama io ad ogni barra vado ad assegnare alla variabile condizione vero o falso a seconda di che questa condizione sia vera o falsa perché ad ogni barra cambia il prezzo di chiusura di oggi rispetto al chiusura di ieri oggi il prezzo ogni giorno si sposta in avanti il prezzo quindi quello che oggi è il prezzo di chiusura di oggi domani sarà il prezzo di chiusura di ieri quindi pian pianino le condizioni potrebbero mutare nel tempo qui ad esempio seguendo i nostri i nostri esempi condition 1 è una variabile booleana perché viene inserito al suo interno una condizione booleana perché condition 1 è vero o falso se il prezzo di chiusura di oggi è minore della media dei prezzi di chiusura a breve periodo e se il prezzo di chiusura di oggi è maggiore della media lunga quindi il concetto è la condizione 1 è vera se i prezzi hanno avuto un ritracciamento nel breve periodo quindi stiamo un po' scendendo col mercato ma a livello di lungo periodo siamo in trend ascendente il mercato sta andando su a livello di lungo periodo poi bisogna definire cos'è il lungo periodo quanto diciamo quanto è lungo ma il concetto è questo se sono vere entrambe le condizioni allora è vera condizione 1 quindi come vi ho già detto gli input si possono gestire tramite la maschera e sono anche ottimizzabili quindi sono modificabili in automatico in fase di test io per farvi capire come vi ho detto prima vedo dall'inizio alla fine i risultati dati dall'utente specificati dall'utente con questa combinazione di input posso mettere dentro a multi charts come è qua risultati che vedo qui lasciate perdere i risultati a livello di teoria se sei buono o sbagliato il risultato ma i risultati che vedo qui sono il risultato del mio algoritmo con questi con queste impostazioni se volessi guardare i risultati dello stesso algoritmo ma con il prezzo di chiusura anzi la lunghezza delle bande di bolling era 21 dovrei scriverlo a mano ma per fare un'ottimizzazione seria dovrei creare un range di ottimizzazione da andare a lavorare come farlo in modo intelligente c'è la funzione ottimizza dentro multicharts e potete ottimizzare in modo intelligente delle combinazioni di input quindi farlo partire ad esempio da 10 farlo arrivare fino a 30 con step di 1 allora che cosa fa questa funzionalità va a vedere va a lanciare tante volte il backtest di multicharts applicando dall'inizio alla fine ogni volta una combinazione diversa di input e registrando ovviamente i risultati quello che vi facevo vedere prima questo un backtest singolo è il risultato del performance report con la linea che abbiamo visto prima la equity line se lancio un'ottimizzazione questa operazione viene eseguita tante volte quante sono le combinazioni di input quindi non è che se cambio gli input infrango la regola come vi dicevo prima che gli input sono delle statue rimangono delle statue posso andare però a vedere come lavora il sistema con combinazioni di input diverse e riesco a capire se sto lavorando se ho sovraottimizzato se mi trovo in un'area stabile eccetera eccetera quindi una volta che vengono dichiarati gli input vengono poi richiamati all'interno del codice come vedete ognuno ha i punti di richiamo non per forza devono essere richiamati però diventerebbero input inutili se io dichiarassi un input e poi non lo utilizzassi avrei creato un input inutile quindi se lo ripeto il codice viene scritto correttamente ritroverete sempre questa struttura dichiarazione di input e variabili utilizzo degli input e delle variabili per definire le condizioni della strategia quindi punto numero 2 e poi sulla base delle condizioni gli ordini di ingresso e di uscita della strategia qui avete la sezione delle condizioni e qui la sezione degli ingressi giusto per ricordare a chi è entrato nel webinar in una fase successiva dopo il webinar riceverete un email con il link al manuale e la registrazione del webinar di oggi per richiamare l'attenzione sul fatto che ci sono diversi modi per risolvere diversi problemi per risolvere gli stessi problemi questa era una slide carina da un corso che avevo fatto all'università di ingegneria del software che in questo caso mostrava quello che poi era il dialogo tra i vari responsabili di un progetto quello che veniva spiegato dal cliente quello che in realtà il cliente aveva già solo queste due per far capire quello che veniva spiegato dal cliente quello che in realtà il cliente aveva bisogno di sviluppare come il cliente pagava per lo sviluppo di quello che aveva aveva richiesto come diciamo è un po' vi richiama l'attenzione sul fatto che quando si programma bisogna fare attenzione ad avere le idee molto chiare allora più il codice è complicato più il linguaggio è complicato e più diventa difficile avere le idee chiare per questo che Power Language ci può aiutare e in che cosa si differenzia il Power Language dall'Easy Language in poco sappiate che il manuale ufficiale di Power Language anche sul sito di Multicharts è l'Easy Language Essentials cioè la guida dello sviluppatore di Easy Language è la guida ufficiale di Multicharts per il linguaggio Power Language poi nel corso del tempo si sono sviluppate delle funzionalità avanzate ad esempio in Trade Station che integrano per i programmatori più più bravi anche le funzionalità del .NET ma questo è un problema che non ci dobbiamo porre facciamo l'esempio molto semplice come fa Algoritmic ad automatizzare a scrivere i propri trading system quelli che trovate sul sito ad esempio quando li pubblichiamo qua come facciamo a scrivere questi codici con l'Easy Language semplice esiste anche l'Easy Language non l'Easy Language esiste anche la versione di Multicharts che si chiama .NET noi la utilizziamo? no perché? perché ricadremmo adesso non ci arrivo velocemente comunque vi ricordate nella slide linguaggio facile linguaggio difficile torneremo dovremmo poi cambiare la slide scrivendo Multicharts linguaggio difficile linguaggio difficile uguale tempo perso linguaggio facile non solo tempo guadagnato ma linguaggio apprendibile anche da chi non ha esperienze di sviluppo perché come vi ho fatto vedere prima un codice che si può scrivere in 20 righe con altri linguaggi richiederebbe 200-300 righe e sarebbe effettivamente difficile da fare con Power Language riuscite a risolvere questi problemi e dove non arriva Power Language arrivano le librerie che stendono la piattaforma ci sono le variabili globali ci sono le liste potete leggere file esterni che di base Multicharts non vi fa fare ma ci sono queste librerie che stendono le funzionalità le potenzialità del linguaggio e voi risolvete problemi complessi in modo sempre semplice quindi perché vale la pena imparare Power Language perché così avete il controllo del passaggio che c'è tra l'idea e il backtest non solo l'obiettivo principale del percorso formativo non è quello di farvi diventare dei programmatori è ovvio farvi imparare il linguaggio ma quello più importante è quello di essere in grado di leggere prima di tutto dei codici perché se imparate a leggere bene dei codici col tempo e con la pratica perché poi è lì la fregatura imparare Multicharts come piattaforma è molto più semplice chiaramente che imparare il linguaggio della piattaforma richiede un po' più di pratica il linguaggio ma il percorso questo dura 3-4 mesi fino a fine estate e questa estate di fatto siamo aprile maggio giugno anche luglio e anche un po' agosto di solito andiamo avanti e alla fine del percorso dovrete saprete leggere un codice e sulla base della pratica che avrete fatto quello tutti quindi leggere sulla base della pratica che avrete fatto sarete in grado anche di scrivere integrare codici già fatti codici già esistenti perché non per forza bisogna prendere il il foglio di Multicharts e dire adesso inizio a scrivere e parto da zero posso utilizzare codici già fatti integrarli nei miei sistemi piuttosto che modificare un sistema già fatto con le mie idee ed è fattibile lo ripeto perché è un linguaggio pensato per i trader e non per gli sviluppatori ripeto gli sviluppatori sono abbastanza indignati quando vedono linguaggio power language io stesso che sono provengo da una formazione su java nel senso che sono uno sviluppatore java quando ho visto easy language mi sono messo le maie nei capelli perché sembra talmente troppo semplice che talmente troppo limitato rispetto alle potenzialità che solitamente siamo abituati a vedere con altri linguaggi che ci cadono le braccia in realtà per i problemi che deve risolvere il trader ovvero definire delle condizioni di ingresso e di uscita e applicarle quindi fare compra e vendi e poi fare l'analisi dei risultati è il linguaggio perfetto perché in poche righe vi permette di scrivere quello che con altri linguaggi siete costretti a scrivere in moltissime righe vedremo durante il percorso formativo che tutto per noi è un problema non un problema da diciamo che ci debba pesare non un problema che ci che ci dia fastidio un problema matematico un problema da risolvere e come vi dicevo all'inizio del webinar per risolvere il problema quindi arrivare al risultato ci sono più soluzioni l'aspetto interessante di questo percorso formativo negli anni siamo alla settima edizione quindi ormai ho visto passare molti discenti all'interno di questo percorso formativo è che durante le esercitazioni quando vi viene proposto il problema quindi devo fare questo prova a scrivere il codice per risolvere questo problema in genere le soluzioni proposte sono tutte diverse specialmente se il problema non è troppo semplice ed è interessante perché quello che abbiamo scritto qui è esattamente quello che vi sto dicendo per arrivare a risolvere un problema ci sono più soluzioni e dopo ognuno trova la sua il fatto è che tutti hanno paura di conoscere il linguaggio ma vi garantisco che essendo semplice essendo un insulto per i programmatori imparare power language è possibile anche per un non programmatore perché è semplice ha pochi costrutti è proprio essenziale e nel percorso di programmazione quindi inizio un po' a vedere le domande che avete fatto in fase di iscrizione si c'è chi mi scrive che deve scappare io adesso vi rispondo un po' alle domande che avete fatto in fase di iscrizione in diversi avete chiesto se consigliamo di seguire prima power language piuttosto che diventare quant diventare quant è l'altro percorso formativo in cui vediamo più come si utilizza la piattaforma multichats non c'è un momento giusto per entrare diciamo che l'anno l'anno inizia accademico accademico e formativo inizia a settembre con il diventare quant che va fino a marzo e poi da aprile ad agosto facciamo programmazione il momento buono è quando ci sono queste finestre cioè o a settembre o a fine marzo i primi di aprile non consigliamo di seguire uno piuttosto che l'altro perché abbiamo visto discenti seguire prima programmazione poi diventare quant e viceversa dal momento che richiede molto tempo il momento se adesso volete entrare è adesso se volete aspettare settembre sarà settembre però sono queste due finestre non c'è un meglio prima uno o poi l'altro nel corso di programmazione vediamo ovviamente come si utilizza il software però non ci fermiamo a guardare se il backtest è interessante quali sono i principali valori del performance report perché l'ottimizzazione va fatta in questo modo piuttosto che nell'altra nel corso di programmazione ci focalizziamo sulla programmazione quindi se lanciamo un'ottimizzazione vediamo come si comporta il codice durante l'ottimizzazione allo stesso modo vediamo come si comporta il codice durante un backtest poi andiamo ad automatizzare anche i sistemi per vedere come si comporta il codice in autotrading vediamo tutte le fasi però tutto sempre dal punto di vista della programmazione quindi una delle domande che avete fatto è un attimo che le prendo tutte si possono fare trading system che usano i dati fondamentali? potete inserire qualsiasi tipo di serie storica anche serie storiche di non prezzi all'interno di multicharts nel quote manager che era uno di quei dei software che compongono la suite potete definire gli strumenti finanziari ma gli strumenti finanziari possono essere anche finti nel senso che può essere un dato macroeconomico un indicatore un qualche cosa che abbia un numero chiaramente sia definibile in un numero io posso utilizzare quel numero quella serie numerica di valori per poi operare è chiaro che la devo poi alimentare devo manutenerla però la domanda è posso utilizzare dati che non siano appunto i prezzi del mercato il prezzo di chiusura della barra a 15 minuti si potete sostituirlo si possono fare trading system che importano quindi si è la stessa domanda domanda come funziona il percorso formativo velocissimamente il corso è online esclusivamente online ma sempre in diretta come siamo in questo momento quindi voi avrete la possibilità di interagire con il docente questo è ad esempio l'area di l'ambiente di caricamento del materiale quindi ogni settimana questo è il corso dell'anno scorso per intenderci ogni settimana viene caricata la lezione perché la lezione viene registrata poi se non potete partecipare in diretta ve la riguardate e vengono caricati i materiali i slide i codici tutto quello che facciamo durante la lezione e poi c'è il forum nel forum in genere vengono caricate le esercitazioni ok con cui poi chi ha tempo risponde partecipa ovviamente se seguite il percorso nel modo corretto arrivate alla fine con dei risultati quindi le lezioni sono tutte online sono tutte registrate tutte in diretta e in genere tutte il giovedì almeno in media è così sempre il giovedì dalle 6 alle 7 e mezza il sistema gira anche su altre piattaforme tipo T3 Open di WeBank sì come vi dicevo ci sono broker supportati uno di questi è WeBank quelli italiani supportati sono WeBank IWBank Banca Sella e Direkta che io sappia quanto è importante concentrarsi anche sui volumi nelle strategie che si costruiscono ad esempio noi di algoritmica ci abbiamo lavorato poco sui volumi è una di quelle aree che stiamo esplorando in questo periodo diciamo che quindi si possono sviluppare sistemi anche senza lavorare sui volumi visto che ne abbiamo fatti molti in questi anni però potete richiamarli tramite il codice e poi fare chiaramente i volumi devono essere volumi di una serie storica pulita però li potete richiamare e li potete utilizzare nel backtest e nell'automatizzazione sì assolutamente ok poi c'è anche qualche suggerimento gradito dei partecipanti del percorso formativo diventare quant che adopereremo sicuramente poi c'è qualche domanda anche che avete fatto questa sera ovviamente come ho detto non rispondiamo purtroppo direttamente a tutte le domande che avete fatto perché ne avete fatte moltissime non abbiamo i tempi tecnici proprio le domande a cui non abbiamo risposto verranno diciamo vagliate una ad una per email a chi le ha poste quindi tranquilli so che con l'ultima versione di multicharts l'ultima versione di multicharts supporta anche i feed di alcune exchange delle criptovalute ma non live trading non operatività quindi sapete se a breve verrà aggiunto anche il live no purtroppo no e come algoritmica se ci interessa questo argomento sì il problema è che ci deve essere per noi importante ed è fondamentale poter gestire tutto il cerchio quindi se io ho la possibilità di fare tutto sì mi interessa quindi per il momento le crypto in multicharts sono solo flusso dati e riesco a arrivare fino a qui e quindi se non ho la possibilità di automatizzarla non riesco a a chiudere il cerchio quindi per noi importantissimo la questione filosofica dei sette passi per automatizzare un sistema bene chiudiamo quindi che cosa andremo a vedere durante il percorso formativo velocissimamente le basi del linguaggio un po' le abbiamo già introdotte le basi delle piattaforme come si legge un codice i tipi di ordine i costrutti principali ad esempio i cicli for costruzioni indicatori trading system distingueremo ovviamente e svilupperemo poi un sistema partendo dalle regole e ovviamente tutti questi argomenti sono lo scheletro dei percorsi formativi anche degli anni precedenti noi ogni anno cambiamo i contenuti questo perché perché poi abbiamo degli add-on quindi ogni lezione poi è supportata da materiale aggiuntivo da materiale anche audio video proprio aggiuntivo di supporto ad esempio l'anno precedente abbiamo letto abbiamo visto come si fa a leggere un codice l'anno dopo non leggiamo lo stesso codice quindi vi diamo come lezione in più bonus sempre quelle degli anni precedenti quindi in realtà non sono proprio sono 30 ore in diretta ma alla fine sono molte più ore una parte interessantissima per chi è un po' più avanzato da qui in poi perché fino a qui diciamo è la parte tra virgolette base i requisiti minimi del power language dopo iniziamo a vedere alcuni aspetti molto interessanti nella fase finale che sono le librerie avanzate ne citavo prima alcune il portfolio money management signal quindi come si gestisce e anche come creare una libreria personalizzata con visual studio che non è una cosa che si fa tutti i giorni però saper chiudere il cerchio anche nello scrivere una propria libreria personalizzata avanzata è sicuramente qualcosa di più rispetto a fermarsi solo alle funzionalità di base della piattaforma bene quindi la prossima lezione sarà giovedì prossimo tra una settimana il 4 di aprile dalle 6 alle 7 e mezza per chi di voi fosse interessato iscriversi al percorso formativo trovate tutto nella pagina del sito quindi su corsi trading corso di programmazione easy language e power language potete scaricare il modulo di iscrizione questo è l'unico corso di programmazione in italiano diciamo di power language con le lezioni in diretta quindi avete questo vantaggio di essere seguiti step by step nel percorso formativo abbiamo incluso la licenza trimestrale di multi charts quindi chi si iscrive poi riceve una licenza trimestrale per poter seguire il corso quindi non dovete comprare per forza prima la licenza se l'avete comprata prima vi scontiamo di fatto quello che noi paghiamo una licenza trimestrale facciamo una lezione a settimana avrete accesso come vi ho fatto vedere prima all'area riservata con il materiale del percorso formativo ad esempio ogni settimana verrà caricato avrete accesso al forum riservato agli iscritti al percorso formativo e di fatto di solito noi diamo la garanzia al 50% cioè chi si iscrive a tempo fino alla sesta lezione per ritirarsi con la garanzia del 50% per voi che siete iscritti al webinar che avete già dimostrato di essere interessati e alla alla vostra crescita formativa vi diamo una garanzia del 100% quindi se vi iscrivete e per qualche motivo vi rendete conto che effettivamente è troppo difficile non ce la fate se avete provato a fare le prime 6 esercitazioni quindi sono le prime 6 lezioni avete tempo per ritirarvi sempre per voi che siete qui al webinar vi diamo un bonus se vi iscrivete al percorso formativo ovvero vi diamo il kit del trader sistematico che è composto dai nostri due libri che abbiamo scritto l'anno scorso più la rivista non so chi di voi ha seguito di recente il circolo il circolo si sta rinnovando c'è una novità molto importante proprio nel mese di aprile quindi aggiungeremo anche il mensile di aprile e vediamo il dvd di introduzione a diventare quant tutte queste tre cose se le andate ad acquistare sul nostro sito le pagate 357 euro ve le diamo come bonus il corso per chi si iscrive entro il 5 di aprile ha un costo di 1600 euro più IVA voi potete prendervi in più la garanzia il bonus il 4 di aprile il 4 di aprile il 4 di aprile